Il governo non ci aiuta, protestiamo perché non vengono garantiti i diritti degli studenti e del personale docente e la sicurezza. È il grido di allunni e professori del liceo Ancomarzio che si unisce a quello degli altri istituti di Ostia che hanno proclamato lo stato di agitazione permanente contro lo smantellamento della scuola pubblica. Da ieri studenti e insegnanti hanno messo in moto una protesta civile basata sugli attività di studio, la preparazione e la correzione dei compiti e lezioni all'aperto, nonché incontri con genitori e studenti, andando oltre l'orario canonico delle lezioni. Oggi, al suono della campanella, circa 30 professori dell'istituto Ancomarzio hanno portato i banchi e le sedie nell'atrio della scuola, dove sono stati corretti i compiti. Poi alle 15, orario di chiusura della struttura scolastica, i professori si sono ritrovati fuori dai cancelli per continuare ad oltranza la loro protesta contro le famigerate 24 ore di lezione e le aule non a norma, secondo la legge 626. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella delle 24 ore, che adesso sono rientrate. Cosa significa? Che il ministro da un giorno all'altro e il governo hanno immaginato di mettere dentro la legge di finanziamento, praticamente, la finanziaria, un passaggio a 18 o 24 ore di lezioni settimanali senza cambiare il contratto, nulla del genere. L'idea che c'è dietro è che gli insegnanti, in buona sostanza, lavorino poco o niente, molto meno di altri, solo 18 ore. Non è così. Per cui questa volta abbiamo provato a dire anche ai ragazzi facciamo insieme, perché fronte comune, perché la questione non sono tanto le 24 ore, la questione è la scuola pubblica. Ma a rimetterci sono sicuramente gli studenti che non hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni. O meglio, sono state abolite le assemblee d'istituto, sono circa tre anni che non viene fatto il viaggio di istruzione e mancano anche gli spazi adeguati per le attività scolastiche. Ci siamo ritrovati in una situazione di carenza di aule, ci siamo trovati in una situazione veramente molto problematica. Una classe a mese, a settimana, doveva girare nella nostra aula video? Perché c'era proprio questo problema di carenza di aule, noi non abbiamo gli spazi per fare una didattica di qualità. Il disegno di legge 953 prevede che ci sia tolto il diritto di organizzarci nelle nostre assemblee d'istituto, che venga eliminato la figura del rappresentante d'istituto e di quello di classe. Quindi verrà delegato ad un generico statuto che ogni scuola dotterà e quindi si verrà a creare una situazione tale per la quale alcune scuole avranno assemblee rappresentanti ed altre no. Io penso che i diritti si chiamino diritti perché ad averli sono tutti. Se non li hanno tutti si chiamano privilegi e la scuola che vogliamo è una scuola dei diritti. Lunedì l'attività scolastica riprenderà con una lezione all'aperto, sempre per dire no alle aule non a norma e ai tagli del governo. All'iniziativa hanno aderito anche il liceo Toscanelli, l'Enrique e il caro Tenuto. Una protesta che continuerà fino al 30 ottobre.